Allora vi hanno insegnato che due linee parallele non si incontrano mai, geometricamente parlando, certo è che se noi ci troviamo davanti a dei binari di un treno, noi vediamo che i due binari là in fondo vanno a unirsi e ovviamente il punto in cui loro si uniscono coincide con il punto di vista dello spettatore, cioè noi siamo i nostri occhi che mettono in moto, diciamo così, tutta la rappresentazione. L'idea della prospettiva è da un certo punto di vista davvero rivoluzionaria perché sto cercando io di farvi capire che la prospettiva ci porta a orientarci nella lettura dello spazio attraverso i nostri occhi. Provate a pensare quante volte voi dite la frase secondo il mio punto di vista, il punto di vista, la nostra opinione, in realtà l'opinione mettiamola da parte, ma il nostro punto di vista sarebbe il modo in cui noi vediamo la realtà. E questa espressione, il punto di vista, dovrebbe insegnarci il relativismo, cioè il mio punto di vista per forza non può coincidere con il tuo, già che solo io sono nella mia posizione geometrica. Se il tuo punto di vista coincide con il mio vuol dire che tu sei molto vicino a me, ma basta spostarsi, cambiare punto di vista e il mondo appare in modo completamente diverso. In questo video voglio infatti raccontarvi qualcosa del genere. Lo voglio fare facendovi capire la differenza tra la prospettiva centrale, che è quella brunelleschiana che vi ho mostrato prima, e quella che verrà impiegata prevalentemente durante tutto il rinascimento, con alcune rare eccezioni che vi motiverò di volta in volta, e la differenza, vi dicevo, tra la prospettiva centrale e la prospettiva cosiddetta accidentale. Possiamo definirla anche prospettiva angolare, se vogliamo, non è un gergo tecnico, ma per capirci, ve la farò vedere tra poco. Per guidarvi però e capire bene la differenza, voglio farvi capire anche che se noi abbiamo davanti un'immagine con prospettiva centrale, chi ha scelto di impiegare quell'immagine? Il pittore o il regista? Perché tra poco vedrete, userò, saccheggerò, un video molto suggestivo realizzato su quelle immagini di alcune inquadrature di Stanley Kubrick, il grandissimo regista, ma chi sceglie un punto di vista ovviamente vuole darci la sua visione del mondo, dicevo. Quindi se si usa la prospettiva centrale, il punto di vista corre là in fondo, il nostro occhio si chiude qui, tutto è centralizzato, noi andiamo a finire qui. Quindi se invece viene impiegato l'altro punto di vista che vedrete tra poco, appunto, nella prospettiva accidentale, vedrete che lo spazio si apre. Quindi prima domanda da porsi è, l'artista vuole che il nostro occhio si focalizzi in un punto preciso, si chiuda, oppure che scappi fuori? Lo vedremo. Io per illustrarvi questa differenza vado a prendere appunto l'immagine che ho selezionato per voi, questo video. Lo faccio partire. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ok, torniamo alle mie immagini, dove sono? Eccole qui. Allora, avete visto, ho messo anche giustamente le credenziali di chi ha realizzato questo video, molto chiaro, molto esplicativo, ma vi sto dicendo qualcosa di molto importante. Non soltanto gli artisti quando dipingono, scelgono di impiegare un punto di vista che determina il modo in cui noi guardiamo le opere e questo è fondamentale, ma ovviamente lo facciamo anche noi ogni volta che scattiamo una immagine fotografica senza rendercene conto e ovviamente lo fanno a maggior ragione i fotografi professionisti e i registi. Avete visto il modo in cui questa centralità fotografica senza renderciti. Non rispecchia pienamente le regole Brunelleschiani. Però vedete che davvero, come se fossero dell'epoca di Duccio con prospettive che convivono diverse, ma vedete che c'è una scelta molto particolare. Anche in questo caso dobbiamo sempre guardare cosa fa l'artista. Vi mostro adesso un'altra possibilità. Queste sono incisioni di Giovanni Battista Piranesi, settecentesche, e vedete che c'è una prospettiva, in questo caso centrale, ma asimmetrica. Cioè tutto corre a un punto di vista che è qui, ma non è posizionato al centro della scena. Questo già ci crea un'immagine molto più moderna, diciamo così, molto più dinamica dello spazio. Adesso però voglio raccontarvi, anche qui ho saccheggiato queste immagini, voglio raccontarvi la differenza tra prospettiva centrale e prospettiva accidentale. Ora, quando io sono in classe, di solito, prendo la cattedra, io sono sempre in piedi, tanto lo sapete, cammino, non so, ferma, seduta alla cattedra. Ma quando sono in classe, prendo la cattedra e un po' bruscamente la sollevo e la sposto, in modo tale da mettere lo spigolo, uno degli spigoli della cattedra, verso i miei ragazzi, verso di voi. A questo punto cosa succede? Che voi vedete che, se prima la cattedra era, come vediamo qui, parallela allo spettatore, immaginate che noi siamo qui e la cattedra è parallela a noi, noi la vediamo in forma piatta. Ecco, se io sposto la cattedra mostrandovi un angolo, uno spigolo, guardate cosa succede, lo spazio di rappresentazione si apre. Voi vedete appunto che io ho due punti di fuga esterni a cui le linee corrono e non più un punto di vista centrale a cui tutte le altre linee, quelle di prima appunto, andavano, con quelle quali andavano a coincidere. Qui vedete appunto la prospettiva centrale come se noi fossimo qui, paralleli all'oggetto da rappresentare, con la prospettiva accidentale vedete che il nostro punto di vista dello spettatore è d'angolo e di conseguenza le linee dell'oggetto, la nostra cattedra, vanno ad aprirsi. Guardate appunto la rappresentazione molto, molto diversa, molto più dinamica, molto più moderna. Qui vedete di nuovo una rappresentazione grafica accidentale, quindi un semplice solido rappresentato secondo la prospettiva accidentale, vedete due punti di fuga esterni. Ho aperto lo spazio, non porto l'occhio dello spettatore a chiudersi verso il centro, ma lo apro e lo porto fuori. Tra i primi, forse il primo, con grande coraggio a realizzare una scelta di questo tipo sarà Tiziano Veccellio, qui vi sto mostrando la celeberrima palapesaro della Basilica di Santa Maria dei Frari, Santa Maria gloriosa dei Frari a Venezia. Vedete appunto che c'è una scelta di prospettiva accidentale. Vedete che noi vediamo lo spigolo della gradinata su cui poggia i piedi San Pietro e appunto su cui è seduta la Madonna con il bambino. Una scelta modernissima, quando ve ne parlerò vi racconterò il perché, dal mio punto di vista questa modernità, ve lo anticipo subito, la Madonna non è al centro della scena, cosa che era assolutamente impensabile un attimo prima o forse anche per il fatto che siamo a Venezia, ma di questo parleremo. Vi mostro a questo punto un'altra meravigliosa incisione di Piranesi, in questo caso sono le carceri, guardate come l'uso di una prospettiva accidentale apra lo spazio, confonda la vita dello spettatore e sicuramente non è più una visione così razionale come quella, così centralizzata come quella giustamente del primo rinascimento. Stessa cosa dicasi per queste rovine appunto sempre di Piranesi, voi vedete appunto che lo spazio si apre, gli edifici sono rappresentati di spigolo, vedete, d'angolo, prospettiva accidentale, lo spazio viene aperto. Stessa cosa in modo molto drammatico vi farò notare quando parleremo della zattera della medusa di Jericho, sto facendo veramente un lungo escursus nella storia, qui siamo nei primi decenni dell'Ottocento, poi ve ne parlerò, ma vedete che la zattera viene rappresentata con una prospettiva accidentale. Se dovessimo disegnare i punti di fuga non sarebbe punto di vista centrale ma due punti di fuga esterni che ovviamente aprono lo spazio, coinvolgono maggiormente lo spettatore, come dire che simbolicamente la realtà non può essere chiusa nel perimetro dell'immagine scelta dall'artista, è come se la realtà proseguisse, avesse una sua, come se fosse quasi, infatti ve lo dirano, un'inquadratura fotografica, l'artista sceglie di rappresentare ma la realtà va ben oltre. Guardate la differenza, questa è una bellissima prospettiva centrale asimmetrica di Caibotte, un artista impressionista e guardate invece lo stesso artista quando ci dipinge con una prospettiva accidentale, voi vedete appunto che questo edificio appunto scivola in profondità secondo due punti di vista che sono punti di fuga in realtà, che sono diversi. Stessa cosa si può dire in particolare quando occorre trattare di architettura, cosa che io faccio poco perché abbiamo sempre poco tempo. Questa è un'architettura, un progetto visionario meraviglioso di Sant'Elia, un architetto futurista, molto, molto giovane. Vedete appunto che anche in questo caso per la rappresentazione grafica di questi edifici spesso visionari occorre aprire lo spazio e poi vi faccio vedere delle immagini che voi avete già, che tutti conoscete, molto belle, molto evocative. Questi sono i sonnamboli di Edward Hopper, artista dei primi decenni del Novecento, americano. Vedete appunto che scegliere di impiegare una prospettiva accidentale di apertura dello spazio crea effetti sicuramente molto intimi, molto particolari, ma anche di grande apertura. E poi faccio un passaggio un po' drammatico e vi riporto ancora una volta all'attualità, cioè pensiamo, provate a fare caso da adesso in poi, a come noi scegliamo il punto di vista quando usiamo la fotografia. Qui ho scelto delle immagini molto drammatiche tratte da foto, foto reporter, da foto di scene di guerra, Aleppo, in Siria. A volte, anche in questo caso, se io scelgo di fare una foto dal basso, come è stato fatto in questo caso, il personaggio è qui, in questa via, si fa quasi franare addosso queste rovine della città. E però voi vedete che l'occhio corre verso il fondo e si sente schiacciato. La stessa cosa può dirsi, no, o meglio, si può dire una cosa diversa, le macerie qui sono in primo piano, ma vedete che la foto con questo taglio prospettico che scivola in profondità ci propone una visione diversa. Guardate sempre ad Aleppo questa folla che sta cercando rifugio al di fuori di quelli che erano gli edifici, guardate come in questo caso la prospettiva centrale asimmetrica risulti molto evocativa. Stesso discorso qui, prospettiva centrale asimmetrica, molto coinvolgente perché noi siamo fisicamente lì, noi siamo paralleli a ciò che vediamo. Guardate invece la differenza quando si impiega una prospettiva, beh, questa è una fotografia molto evocativa, molto bella, del Golden Gate Bridge di San Francisco, ne ho messe un paio. Però voi vedete appunto in questo caso che è una prospettiva centrale, asimmetrica, molto asimmetrica, ma io direi quasi che in realtà è una prospettiva accidentale. Ovviamente il nostro spazio viene portato fuori. Ho messo poi inserito alcune immagini tratte da fotografie di Gabriele Basilico, che è questo artista contemporaneo, che lavora molto appunto, è sostanzialmente un fotografo. Vedete che per l'architettura in particolare la scelta, vi dicevo prima, di usare un punto di vista con una prospettiva accidentale è molto evocativa. Lo spazio si apre e ci permette davvero di vedere una realtà appunto per l'architettura, vi dicevo, è il punto di vista privilegiato, è la tecnica scelta privilegiata. Vedete la differenza sempre di Basilico per una prospettiva centrale, un po' alla Kubrick a questo punto, prospettiva centrale che siamo a Quartogiaro, nella periferia nord di Milano, voi sapete, e se si sceglie una prospettiva centrale come è questa, noi siamo paralleli, siamo dall'altra parte della strada, stiamo affacciandoci a guardare questo palazzo. Se invece, sempre con Gabriele Basilico, noi vediamo una strada che si apre in questo modo, con una prospettiva accidentale, ovviamente c'è l'apertura. Vi ho mostrato adesso qualche edificio sempre di Milano molto celebre, uno dei grattacieli di Sozaki, City Life, vedete che di nuovo la prospettiva accidentale è quella scelta per l'architettura. Questo è un altro progetto di Sozaki, di nuovo vedete che la fotografia è costretta, mi viene da dire, a impiegarle prospettiva accidentale. Un altro, altri edifici di Sozaki, vedete appunto la prospettiva accidentale, quella prediletta che ci permette di vedere meglio la struttura, perché se noi fossimo fotografarsi in prospettiva centrale, beh, schiacceremmo o questo lato o questo lato, ovviamente si crea un altro effetto. Concludo mostrandovi il bosco verticale sempre di Milano, di nuovo vedete come la prospettiva accidentale apra lo spazio.